Consapevole dell'importanza e della sorenità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita di attenermi nella mia vita ai principi etici della solidarietà umana contro i quali nel rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali di rispettare i colleghi in caso di divergenza di opinioni di curare tutti i miei pazienti con uguale scrupolo e impegno prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne ha bisogno e di mettermi in caso di pubblica calamità a disposizione dell'autorità competente di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato che vedo o che ho venuto inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio Stato